Qual è l'argomento più discusso ultimamente riguardo al settore immobiliare? La crisi, la crisi immobiliare. E praticamente in questo video andiamo a vedere quelli che sono i fatti, gli approfondimenti e il proseguire, il futuro, tra piccolette, di questa crisi. Andiamo a vedere un po' quello che ne sarà il futuro. Buongiorno, buongiorno signori, sono Mario Carlinante, lavoro per l'azienda di terminazione immobiliare Remax Ideale, con sede a Ipoli, in questo caso. Poi c'è Firenze e San Giovanni Contaglio. Allora, partiamo un attimino. Il primo semestre del 2023 ha segnato una frenata, come abbiamo visto per quanto riguarda il mercato immobiliare e presidenziale, però una ripresa la possiamo già vedere durante la metà del 2024. Durante la metà del 2024-2025 già possiamo vedere un aumento delle transazioni. Ora andiamo a vedere che c'è stata questa frenata. Uno dei fattori principali di questa contrazione del mercato immobiliare dal primo semestre del 2023 è stato proprio l'aumento dei tassi per quanto riguarda i mutui. Infatti possiamo registrare un meno 12% delle transazioni qui in Italia rispetto al 2022. Tuttavia il rallentamento dell'inflazione e l'abbassarsi delle tasse di mutui che andiamo dovranno comunque abbassare, nei prossimi mesi suggeriscono che il mercato si potrebbe riprendere dalla metà del 2024 in poi. Tuttavia, se si consiede l'allandamento del primo semestre negli ultimi 10 anni, la fotografia cambia sensibilmente. Questo perché rispetto alla meta delle compravendite, il primo semestre del 2023 è comunque in crescita del 26%. È del terzo migliore periodo dopo il 2021-2022, che sono figli della chiamata post-lockdown. Questo quindi è indicativo del fatto che l'aumento dei tassi di interesse è il problema principale di questa frenata, ovviamente che abbiamo subito nel 2023. Parlando di transazioni immobiliari in Italia per zona, nel primo semestre del 2023 tutte le macro-aree hanno riscontrato una variazione negativa. Possiamo trovare al nord Italia un meno 13%, nel centro un meno 16% e nel sud un meno 8%. A livello di prezzi delle case in Italia, il primo semestre ha avuto una variazione, soltanto una variazione media intorno allo 0,3%, che sostanzialmente rispetto al periodo del 2022 rimane comunque stabile. Considerando la variazione semestrale, nel primo semestre del 2023 tutte le grandi città hanno registrato valori stabili, quindi con i prezzi il velo male ci sa. I tempi di vendita nelle grandi città aumentano leggermente, sono il lievo aumento su una media dei 4,3 mesi rispetto ai 4,2 del secondo trimestre 2022, ma qui nella prima non è che cambia chissà che. Uguale, rimane comunque stabile a livello di scontistica sui prezzi delle case. Nel primo semestre del 2023 gli sconti medi tra prezzo richiesto dal venditore e prezzo di chiusura retrattativa passa dall'11,2% al 10,5%. Anche questa media quindi rimane pressoché invariata o comunque leggermente, un minimo proprio. Le tese per il futuro rimangono comunque ottimistiche, a meno che sconvolgimenti mondiali o cose del genere. Infatti l'inflazione in questa prima parte del 2023 ha comunque evocato una via in discesa, con l'indice razionale dei beni al consumo, che dal 10% nel gennaio 2023 è sceso all'1,7% dello scorso ottobre. In termini previsionali, il decremento della componente volatile è comunque una buona notizia perché anticipa un'inversione di trend della componente di fondo e quindi un rallentamento della curva inflattiva che a dicembre 2023 dovrebbe chiudere con una media annuale intorno al 5,6%. Quindi indica una riscensa dell'inflazione che finirà mancatamente nel 2024 e successivamente nel 2025. A luce del cavo dell'inflazione è quindi plausibile pensare che l'assenza della BCE sui tassi di interesse si rallenterà già nel 2024 e i tassi potrebbero tornare sui livelli più sostenibili per imprese e famiglie, che d'altra parte è il problema principale, da quanto abbiamo capito, di questa contrazione immobiliare. Un'altra tendenza che configurerà una nuova fase immobiliare riguarda il ruolo della casa. Perché? Perché è cambiato l'ordine delle variabili secondo le quali le famiglie scelgono le abitazioni. I requisiti quali spazi per la convivibilità, smart working, giardino, palestre, servizi, tra gli altri intesi in ottica condominiale, sono sempre più richiesti al pari delle tradizioni caratteristiche come l'ascensore, lo spazio esterno e il posto auto. I prodotti immobiliari, nuova costruzione, la cui offerta in Italia non riesce già, da da per sei anni, a soddisfare la domanda potenziale. Dovrà tenere conto sempre di più di queste dinamiche. Quindi per fare un recap generale e leggero, è vero che stanno in una crisi immobiliare, dovuto alla tasso di interesse, all'aumento di riflazione, eccetera, quando queste due sono le principali cause scatenanti. Tutto sommato, se vediamo l'anno del 2023, indietro con gli altri 10 anni, risulta come il terzo migliore che sia dal 2021 al 2022, questo post pandemia. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la domanda c'è. Cioè, gli immobili in vendita ci sono. Quello che è successo è che gli acquirenti si sono girati indietro perché c'è un aumento di riflazione, perché sono aumentati i tassi di interesse. Quindi sono stati scoraggiati un po' dalle banche e da tutto quello che è successo. Ora vediamo un attimino come possiamo affrontare una crisi immobiliare. Perché se no si parla solo di crisi immobiliari e non si parla mai di risoluzione, come possiamo affrontare, e non si parla un attimino di cose un po' più bellino, un po' più carino. Allora, la crisi immobiliare è comunque un periodo difficile, dove si pone davanti delle sfide sia per i venditori che per gli acquirenti. Alcune delle strategie possono essere queste. L'altro riguardo ai venditori è la flessibilità nel prezzo. Sembra una cosa scontata, ma è necessario, soprattutto in questi casi qua, valutare realisticamente il prezzo di vendita dell'immobile, il valore della proprietà, ed essere disposti a ridurre la richiesta in base alle condizioni del mercato. Secondo aspetto, valorizzazione della proprietà, quindi investire a livello di tempo, denaro nel migliorare l'aspetto esterico dell'immobile, un'imbiancatura, delle accortezze, un po' di arrendamento. Non è che il fatto che ci sia una crisi immobiliare ci deve buttare ancora più giù, o magari lavorare il meno di prima, proprio perché c'è una crisi. Nel caso in cui ci sia una crisi, e quindi difficoltà nel vendere l'immobile, ci deve impegnare il doppio per far sì che l'immobile venga venduto, e quindi dargli più valori rispetto al prima. Dopodiché, promozione creativa, tramite social, tramite Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, tutto quello che sia, per raggiungere più persone possibili, per far sì che il tuo immobile venga visto nel miglior modo possibile. Un altro aspetto, ma è il più fondamentale, è quello di collaborare con accetti immobiliari. Lavorare in stretta collaborazione con accetti immobiliari che capiscono il mercato immobiliare del momento, che abbiano una buona rete ovviamente di contatti. Quindi non sprecate tempo, non buttate tempo andando a chiedere al tecnico di fiducia a quello che sia un geometra, un avvocato, un architetto, un ingegnere. Loro fanno il loro lavoro, che non è quello di essere agenti immobiliari. Loro vi possono dire il valore dell'immobile, ma un valore dato sulle mura, sulla proprietà, non ha niente a che fare con il mercato immobiliare. Abbiamo visto un attimino quello che può fare il venditore, allora vediamo dalla parte dell'abbirente, come e in che modo è meglio muoversi, soprattutto in un periodo come questo. La prima cosa da fare è una valutazione finanziaria e andare a vedere esattamente il budget che abbiamo a disposizione per essere pronti all'acquisto, senza stare a perdere tempo, andare avanti, indietro, e poi alla fine non abbiamo la possibilità di poter avversare di nuovo. La ricerca approfondita, quindi lavorare in un certo modo e non alla mia cucina. Quindi capire esattamente quello che il cliente cerca, fare una prima ricerca dalla durata di due o tre settimane, dopodiché invitare in ufficio e fare una prima scrivatura. E soltanto dopo aver scrivato, diverse volte, che sono rimasti quei tre o cinque immobili, forse qualcosina in più, ma non troppo, fissare le visite. Il terzo aspetto che è comunque importante è che ci vuole una negoziazione abile, quindi in fase di trattativa. Sare la situazione di mercato comunque per far sì che l'immobile venga venduto al miglior prezzo, sia per il venditore che per l'acquirente. Per entrambi quali sono gli aspetti fondamentali, sia per i venditori che per gli acquirenti? Essere pronti all'adattamento. Sia i venditori che gli acquirenti devono essere pronti, emotivamente, ad adattarsi al periodo di mercato, a me la quale sono. Quindi, nel caso in cui in una crisi bisogna essere pronti a magari a negozare il prezzo, a calare un attimino. Anche perché poi bisogna pensare che se io vendo a meno di quello che avevo in testa come idea, comunque successivamente a queste no ha di me. Perché il periodo è questo. non esistono periodi di mercato dove vendo a meno e acquisto di più. Ok? I prezzi sono in caldo ma in generale poi come sappiamo tutti il mercato è civico. Quindi va su, va giù, va su, va giù. Bisogna vedere che periodo ciclo che ha e nuove sui conseguenze. Allora, questa bella pappardella è finita. Non è con agudi, cinghiali, chianino, lepre, coniglio, quello che sia. Ma abbiamo parlato di crisi immobiliare, ovvero il periodo immobiliare che stiamo vivendo in questo ultimo periodo. se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace, commentate perché per me è molto importante condividere. Non vi chiedo di condividere per il momento. Ora tanto sto preparando un altro video che comunque uscirà su questo canale quindi seguitemi, mi raccomando, iscriviti al canale che per me è importante. E buongiorno, buongiorno. Buongiorno.